in giapponese non l'avevo mai sentito poi ecco, dopo quel mazingo puoi andare a 12.56 ma che vai a 12.56? cazzo, fammelo vedere qui allungati tu, agganciamento ok, niente Mazinger e Pildero no, ogni volta fa sempre la stessa domanda te lo dico per l'ultima volta la doppia versione è solo Rio e Koji Riccardo, vai c'ho l'eco della, c'ho l'odore della girella sulle mani allora sei un girellaro pure tu Koji, da quante me ne son magnate quello è un mostro meccanico MAZINGA ZETA agganciamento bene, ora vedremo ok per me va tutto bene rifacciamo solo il Mazinga Z perché devi farlo proprio così Mazinga Z no, no, non fa prove strane ma lo rialzo ma non si è accorto che lo sta riprendendo MAZINGA Z adesso lo rivediamo tutto io ti annuncio che ti ho ripreso nella prima volta che l'hai fatto adesso piango adesso piango no, non fa l'effetto di grobo occhio